Tre giornate intense per parlare di fotografia e video. Gravini in Puglia si mette in posa per il secondo anno consecutivo, ospitando la seconda edizione di un congresso nazionale, in grado di richiamare in città tanti esperti del mondo della fotografia e della produzione video, ad organizzare l'evento l'Associazione Fotografi e Videografi Italiani. Poverò un master di questi due giorni bellissimi qui a Gravini in Puglia. Sono emozionato e anche odonato, porterò la mia fotografia ed è un percorso un po' personale e un po' di costruzione del business. Vi aspetto qui in questo cornice fantastica che vedete a mie spalle. Dal 5 al 7 novembre le giornate sono scandite da una serie di incontri e workshop formativi. Non mancheranno anche quest'anno mostre tematiche. Le proposte sono glamour, paesaggio e wedding, visitabili anche nei giorni successivi. E quello che vorrei portare durante queste giornate è il mio entusiasmo e la mia passione che ho nel cuore da 30 anni e condividerla con chi avrà voglia di ascoltarmi. Il comune di Gravina che sta patrocinando l'iniziativa, sta accogliendo in queste ore centinaia di artisti della fotografia italiana. Quando si parla di arte, quando si parla di bellezza, quando si espone l'arte e la bellezza, la nostra amministrazione è sempre attenta e aperta a tante belle iniziative. E come dicevo è proprio la scelta di questo luogo e che è il luogo simbolo in cui noi vogliamo fare del complesso di Santa Sofia vero cuore pulsante dell'arte e della cultura, My Location poteva essere la più dedicata.